La palla a volo è stata una delle sue ragioni di vita. Silvia Garzi aveva solo 47 anni quando 5 mesi fa si è spenta dopo una malattia. Ma la sua voglia di schiacciare, murare e difendere non si è mai spenta e continua, grazie ai familiari e agli amici di Silvia che per ricordarla hanno promosso Silvia nel cuore. Un torneo di sand volley che si è disputato allo Zocco Beach di San Feliciano. Ad aggiudicarsi, torneo e titolo 2021 è stata la squadra dei Misticanza, formata da Michele Fongo, Tiziana Lucaccioni, Veronica Cruciani, Giacomo Musco, Carmelo Xalibra, formazione che si è imposta in un finale mozzafiato. Al termine di tre combattuti set sul collettivo dei Joja Mic, terzo gradino sul podio per i che sorba. 22 in tutte le squadre per un totale di 90 atleti che hanno partecipato a Silvia nel cuore. Iniziativa che ha contribuito a sostenere il progetto Adotta un ricercatore lanciato dall'Associazione Umbra contro il cancro e che si è svolta in collaborazione con Avanti Tutta Onlus. Ci hanno aiutato a realizzare tutto questo in tempi veramente record, Aucic, Avanti Tutta, CSI, con la collaborazione di Pianeta Volle, ma soprattutto chi ci ha sostenuto così all'improvviso. Quindi noi ringraziamo tutti per esserci stati, speriamo di esserci l'anno prossimo, è una cosa che cercheremo di riproporre perché non si molla mai e quindi sicuramente continueremo ad andare avanti.